Torna l'incubo delle baby gang nel centro storico Aretino lo scorso sabato. Tre ragazzi sono stati accerchiati e minacciati da dei coetanei. È successo attorno alle 23. I tre giovani appena maggiorenni stavano percorrendo via Portabuia quando sono stati avvicinati da due ragazzi che avrebbero rubato un capellino ad uno di loro. Pochi minuti dopo i due sono stati raggiunti anche da altri amici che avrebbero accerchiato i ragazzi presi di mira. Ed è a questo punto che le giovani vittime hanno iniziato ad aver paura. I bulli avrebbero iniziato insistentemente a chiedere loro sigarette mostrando un atteggiamento intimidatorio. Attimi di terrore per i giovani che avrebbero evitato comunque di rispondere ad ogni tipo di provocazione. Alla fine il gruppo se ne sarebbe andato senza ulteriori conseguenze. Resta però la paura dei tre giovani che difficilmente dimenticheranno questi minuti di paura. Dell'accaduto è stata già avvertita la polizia municipale di Arezzo che da alcune settimane sta facendo controlli e multe anche con un servizio di agenti borghese proprio nel centro storico aretino.